Stare letteralmente all'altezza di Piero. Sarà possibile con visite straordinarie al cantiere di mantenimento degli affreschi della leggenda della Veracroce di Piero della Francesca, conservati nella Cappella Bacci all'interno della Basilica di San Francesco ad Arezzo. Sarà appunto possibile ammirare all'altezza degli affreschi i lavori di manutenzione e revisione conservativa. L'intervento prevede la rimozione delle consistenti quantità di polveri e particellato atmosferico che si sono depositati sulle superfici dipinte e la verifica dello stato di conservazione della pellicola pittorica, al fine di evitare problemi tipo sollevamenti di stacchio-solfatazione che potrebbero mettere a grave rischio la conservazione dei dipinti. Il cantiere comprenderà anche il restauro della Grande Croce dipinta risalente all'ottavo-nono decennio del 200 e attribuita ad un pittore umbro noto convenzionalmente come maestro di San Francesco e della bifora vetrata. I lavori partiranno il 10 gennaio a cura della Direzione regionale dei Musei della Toscana che per l'occasione ha deciso di allestire un ponteggio accessibile che offrirà ai gruppi di visitatori l'opportunità di ammirare il ciclo dei dipinti da una prospettiva assolutamente diversa e inedita. Insieme alla Fondazione Arezzo in Tour che gestisce i servizi museali dei musei statali e retini sono state quindi organizzate delle visite speciali. Sarà possibile effettuarle dal 27 gennaio al 12 marzo accompagnati da una guida esperta. Avranno la durata di circa un'ora e saranno prenotabili sul sito museiarezzo.it.